ciao e benvenuti in questo nuovo video oggi vi mostro il collocamento di due ralè a due pulsanti differenti e a due luci prese il neutro va dal contatore al morsetto e nel morsetto un cavo al pulsante 1 un cavo al pulsante 2 e un cavo alle luci prese la fase va dal contatore al morsetto nel morsetto un cavo va al ralè 1 al morsetto a11 e un altro cavo va al ralè 2 al morsetto 2 la fase interrotta del ralè va dal morsetto 2 alla luce il morsetto a2 va al pulsante la fase interrotta dalla luce va dal morsetto 3 alla presa luce la fase interrotta per il pulsante va al morsetto 1 al pulsante ralè 1 ralè 2 ciao